ciao a tutti sono roberto oggi farò vedere un nuovo brawler che sta per uscire che si chiama rosa mancano due giorni e 14 ore e oggi lo proveremo è un che ha 5 mila di salute e fa 480 di attacco adesso proviamo ok allora il campo di prova come attacco fa lo stesso attacco del primo ecco cosa fa la sua distanza ecco e come il suo ulti fa questo tipo di cerchio adesso vi faccio vedere cosa lo fa cosa fa adesso quando mi colpisce mi toglie 500 gli danno adesso il proprio di vita ecco uso questo lasso super adesso toglie solo 100 ecco serve per quando tipo ti colpiscono ti tolgono di meno di quanto dovrebbero dovrebbero togliere di vita l'attacco forte perché colpisce tre posti diversi e quando usa la super diventa più grande ecco va bene adesso usciamo ecco e rosa uscirà nel negozio io me lo scioperò provare proviamo anche un altro brawler che sarebbe corvo vi volevo far vedere che quando fai la prova potevi puoi scegliere qualsiasi skin facciamo questa che io ancora non ho ecco la prova e adesso noi avremo questa skin da provare eccolo e come il corvo normale però è infuocato questo qua è il suo attacco da lontano corvo e corre più velocemente di tutti gli altri brawler ecco adesso vi faccio vedere la super ecco e posso distruggire il robot adesso aspettatevi ok ecco il corvo può volare fino a questa distanza ecco e colpisce tante persone che gli stanno vicino beh è bello da usare ecco ecco ok prendiamo di nuovo la super ok ok voglio provare una cosa però non spawn ok se io colpisco con un coltellino solo cosa succede ok toglie 375 tutti e due ah 750 adesso non uccide va bene quando muori rispawni sempre ok ok adesso proviamo con tre coltellini ok 1125 adesso muore di avvelenamento per adesso non è avvelenato ma è infuocato va bene usciamo adesso dalla prova e dopo come ultimo proviamo boh adesso hanno messo la nuova skin e adesso vi farò vedere le cose che hanno cambiato adesso le frecce sono diventate così ecco e adesso quando tira le bombe sono a forma di cerchio ecco la mettiamo la facciamo ecco gli stugge pure il muro ecco però è un po smirato perché facciamo che spariamo la e non colpisce proprio giusto giusto tipo vediamo colpire lui spara anche dall'altra parte basta spararmi adesso se io metto tipo la ulti qua procede va bene pensavo che successe un'altra cosa ok usciamo va bene uscirà anche una nuova skin di nita aspettate dove ecco nita che sarà qua che ci sarà la skin tra 5 giorni e 14 ore e adesso c'è anche una nuova skin di penny che sarebbe penny pasqualino iscrivete il mio canale mettete like schiacciate la campanellina per non perdere nessun video ciao 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 ciao